Avviato un tempo di pace e di prosperità nell'intera Repubblica Centrafricana è quanto constatato nei colloqui tra Papa Francesco e il neopresidente della Repubblica Centrafricana che hanno evidenziato al contempo come le conseguenze dei conflitti degli ultimi anni gravino ancora sulla popolazione. Nel corso degli incontri, riferisce una nota della sala stampa vaticana, è stata sottolineata l'importanza che la comunità internazionale continui a sostenere lo sviluppo del paese. È stata rievocata inoltre la calorosa accoglienza riservata al pontefice nel corso della sua visita a Bangui nel novembre scorso. Rilevato poi come il recente processo elettorale e il rinnovamento delle istituzioni locali si stiano svolgendo in un clima costruttivo a cui contribuisce il dialogo fra le confessioni religiose. Nelle conversazioni ci si è soffermati sui buoni rapporti bilaterali esistenti fra la Santa Sede e la Repubblica Centrafricana, auspicando che essi possano ulteriormente consolidarsi nel quadro degli strumenti giuridici previsti dal diritto internazionale.